Si può raccontare la cultura del nostro territorio, la tipologia, anche attraverso i sapori, gli odori, i prodotti tipici. Io uso sempre il registro delle ricette tipiche della gastronomia per impastare le mie storie, per far conoscere anche al di fuori della Puglia il nostro territorio, le nostre città. Una delle protagoniste dei miei libri è sempre Bari, ma Bari raccontata su vari livelli, anche con i suoi sapori.